Ma ragazzi, noi siamo convinti di vivere in una democrazia, perché che vuol dire democrazia? Ma anche quelli, è Alessandro, anche quelli che vivevano sotto il fascismo, io ricordo, ho sentito, io ho l'età che mi ha permesso di incontrare molte persone, a cominciare dai miei nonni, che vivevano in quel periodo, cioè vivevano la loro gioventù, la loro gioventù. I miei nonni mi hanno raccontato che loro hanno anche dovuto difendere, loro vivevano a testaccio, hanno dovuto difendere alcuni che fuggivano dal ghetto per andarsi a riparare, a nascondersi, li nascondevano dentro le case addirittura a rischio fucilazione. E pensate che mi raccontava mia nonna che addirittura loro li nascondevano in casa, ma erano anche un po' appoggiati e anche facilitati da alcuni stessi gerarchi fascisti che si rendevano conto che era un'atrocità, un abominio quello che stavano facendo i capi, e quindi favorivano queste cose. Qualche volta dicevano noi non sapevamo se fidarci o non fidarci, però dovevamo fidarci perché non potevamo lasciare queste persone così. Quindi c'era questa solidarietà straordinaria, meravigliosa, commovente dell'epoca, però una fiducia nel gerarcho o nel rappresentante del partito dell'epoca, del fascista, eccetera, che però tu non sapevi se era in buona fede o in cattiva fede. E mi diceva, qualche volta abbiamo pensato che invece volessero in qualche modo stanare tutti quelli che erano contrari per poi fare una retata e portarci tutti a metterci al muro e spararci. Pensate all'epoca cosa stava accadendo nel nostro paese. Ecco, questo ovviamente è stata una pagina assolutamente, però io ricordo che c'erano racconti anche di cose diverse. Cioè, chi viveva in quel periodo, soprattutto nel primo periodo del fascismo, quando la bonifica della pianara puntina, tante altre opere, eccetera, eccetera, la gente pensava che era tutto bello, tutto meraviglioso, forse probabilmente anche in una prima fase lo era, però poi sotto sotto si nascondeva, è chiaro, un istinto pericolosissimo, che poi si è rivelato quello che è stato, ok? Quindi i cittadini in quel momento non si rendevano conto, avrebbero dovuto preoccuparsi di un duce al governo, di uno che governava e che tutto quello diceva, la propaganda, l'istituto luce, eccetera, la gente si doveva preoccupare, non si preoccupava, perché in realtà stavano bene, probabilmente, molte persone stavano bene, molte altre hanno cominciato a stare male, tantissime a stare male, lo sappiamo, no? Hanno cominciato, insomma, fino ad arrivare alle ignobili leggi razziali, ma riguardavano una parte, molta gente se ne è fregata, di quella parte che veniva trattata in modo incivile, orrendo, va bene? E dopo però se ne è dovuto occupare tutto il paese perché è arrivata la guerra, che poi ha riguardato un po' tutti il problema, no? E Alessandro e Alberto, le persone non se ne accorgono subito, anche adesso, se tu dici, guardate che c'è un problema di democrazia, eh, ma che è, capito? Ci sono dei principi, ci sono dei principi ordinatori del potere, e ogni potere si organizza intorno ad alcuni principi, ad alcuni valori o presunti valori condivisi. Durante il fascismo poteva essere il nazionalismo aggressivo, certe forme di colonialismo, la guerra d'Etiopia, una serie di principi di vario genere, ma nella nostra epoca ci sono dei principi ordinatori che sono particolarmente insidiosi perché sono vestiti di filantropismo, hanno la forma del rispetto degli altri, si chiama politically correct, che reprime ogni forma di dissenso linguistico e concettuale, hanno la forma dell'ecologismo, che deve servire a proteggere la natura e a proteggere il bene comune nel nome di una falsa ipotesi di funzionamento dell'atmosfera, dell'orbe terracqueo e del clima, hanno il principio del rispetto alimentare ed assume la forma della speculazione con la farina dei grilli, hanno la forma, eccetera, di certe forme di uso dell'energia, cioè è una feste classica luciferiana nella quale una serie di buone intenzioni che fanno parte degli idola tribus, degli idola fori, dei simboli di potere buono di questa società, serve però a impedire che ognuno possa fare la prima cosa che è alla base di ogni costituzione liberale e democratica, cioè ognuno che debba poter sentire il proprio corpo, i propri comportamenti, la propria mente intangibili e pensando di anteporre, come fanno questi falsi principi, un presunto bene comune ad un bene personale e privato, si espropriano i diritti fondamentali, quelli dell'abeas corpus, quelli del funzionamento basilare di una società civile, quelli in cui il tuo corpo diventa disponibile soltanto se è la precondizione del benessere degli altri, gli orrori che sono stati scritti da questa corte incostituzionale, come dire, che è diventato uno strumento di repressione, i principi che abbiamo sentito raccontare in questi racconti pseudosanitari e pseudomedici di questi anni, i principi che oggi nel nome di un ecologismo radicale e ideologico ci raccontano delle balle sull'anidride carbonica, sull'iscaldamento terrestre e ci impongono soluzioni di una tecnologia che serve solo ad arricchire qualcuno, come ha visto adesso, non so quanti milioni di chilometri quadrati di mare in Sardegna colonizzate da paleoniche, e quindi il divieto di mettere i boiler a gas, c'è un delirio di stupidità malvagia che serve soprattutto a garantire i profitti di qualcuno, ma soprattutto la repressione della libertà e dell'autodeterminazione di tutti. Questo è il vero grande problema, questa è la vera grande tragedia, e di fronte a questo noi dobbiamo anche sentirci cattivi, complottisti, negazionisti, Novax, perché non vogliamo piegarci, semplicemente usando il cervello, la logica che è un'etica del pensiero, di fronte a quelle che sono non solo imposizioni ideologiche, ma che vogliono disegnare un mondo orwelliano per il nostro presente, per il nostro futuro. E quindi dobbiamo lottare innanzitutto per la libertà e per la dignità dell'intelligenza, prima ancora che della libertà. Perché questi vorrebbero fare del nostro corpo carne di porco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.